Si troppo banale scontato ritenere Pescara-Ciasena una partita importante. A dirlo sono i recenti risultati. Nelle ultime sette partite bottino magro, cinque punti, una sola vittoria e ben quattro sconfitte. La dimensione dei biancazzurri è certificata dalla classifica. Quinto posto, l'obiettivo naturalmente è correggere i difetti e migliorarsi. Ma fuori luogo, almeno per ora, pensare ad altro. Pur vero però che le aspettative dell'ultimo periodo sono state disattese. Nelle sfide con le prime della graduatoria, Torres, Carrarese, Perugia, Pineto e Re Canatese, il Pescara ha conquistato un solo punto contro gli Umbri di Francesco Baldini. Dunque l'occasione di dare una risposta concreta. Il boemo ritrova Messi e Tuniov. Potrebbe dare continuità a Vergani e confermare Floriani in difesa. Ecco il probabile undici, che come sempre rimane un vero e proprio rebus. Plizzari tre pali, in difesa Floriani, Brosco, Messic e Milani. A centrocampo squizzato Play, Tuniov e Aloy Mezzali. Davanti Merola e Accornero, a supporto di Vergani. Ci sono tanti punti a disposizione e quindi bisogna vedere. Io ho fiducia ancora nella squadra che secondo me è una buona squadra e può giocarsela con tutti, come spero che se la giocherà con Cesena, che per me è attualmente la migliore squadra del campionato. Il Cesena condivide il primato del girone con la rivelazione Torres. 33 punti, 13 risultati utili, 10 vittorie, 3 pareggi, 36 gol realizzati a livello professionistico. Nessun altro ha fatto meglio. Solo undici al passivo. Porta blindata da 434 minuti. Rientrano Corazza dopo la squalifica di tre giornate. Il nazionale Carbo. Indisponibili Ciofi e Chiarello. Sistema di gioco 3-4-2-1. Probabile undici. Pisseri tre pali in difesa Piraccini, Prestia e Silvestri. Sulle fasce Adamo e Donnarumma. A metà campo De Rose e Francesconi. Davanti Spendi e Saber a ridosso di Corazza. Altra opzione, Spendi, riferimento centrale, con Carbo e Saber alle spalle. Il Cesena è una squadra aggressiva, solida e incline a verticalizzare. Motivo tattico nello sviluppo, il team romagnolo si apre molto. In questo caso il Pescara dovrà essere abile a recuperare subito palla e a innescare in profondità gli attaccanti. In sintesi, servirà una prestazione intelligente. Il tecnico del Cesena, Mimmo Toscano. Sappiamo che incontriamo una squadra che ha un'identità ben precisa, ben riconoscibile. Non lo scopro io, il suo allenatore Zeman. Il suo modo di intendere il calcio, la sua filosofia, credo che sia stata un'ispirazione per tanti allenatori della mia generazione. Quindi solo parole di apprezzamento e di stima nei confronti di Zeman. 24 i precedenti in Abruzzo, ben 16 successi, 6 pareggi, appena 2 Koma in Coppa Italia nel 1994 e nel 98. Nelle immagini, uno dei 6 pareggi, 14 settembre 1986, prima giornata di campionato. Nessuno dei presenti all'Adriatico poteva immaginare che stava assistendo all'inizio di un'autentica favola. Era il pescara di Giovanni Galeone, ripescato in via, spese del Palermo, con un manipolo di giovani. I romagnoli di Bolchi la sbloccano con Cuttone, pareggio di Capitan Gasperini sul calcio di rigore. Fu subito empatia col pubblico. Quella squadra scrisse una pagina a dir poco memorabile. Gol, spettacolo, mille emozioni, soprattutto la terza promozione in A nella storia del Delfino. La prima targata Giovanni Galeone. Poi un'infinità di vittorie. Anche il Cesena salirà a fine stagione sul massimo palcoscenico calcistico. Il 4 ottobre 1987, nuovo incrocio all'Adriatico. 25.000 spettatori. Un rigore solare negato dall'arbitro fabbricatore di Roma Berlinghieri, atterrato da Sebastiano Rossi. Altresì incredibile l'espulsione combinata a Leo Junior dopo la sceneggiata di Pasquale Treini. Ciò malgrado il successo al minuto 89, nella maniera forse più imprevedibile. Ennesima discesa di Andrea Camplone. Invito in mezzo, il difensore bosniaco Josic allunga la gamba per il più clamoroso degli autogol. Sempre in A la stagione successiva, 31 dicembre 1988, non ci sarà partita. Finisce 3-0. Gasperini sul calcio di rigore. Quindi duplice espulsione. Calcaterra Josic, Cesena in nove, Pagano raddoppia e Tris, del solito Gasperini, ancora dal dischetto. Il Pescara chiude l'anno all'ottavo posto. A fine stagione sarà invece retrocessione in Serie B. Nuova sfida il 15 settembre 1991. Comincia in salita per i Biancazzurri. Gol di Lantignotti, ma il Pescara di Galeone la ribalta. Grazie a questo fendente di allegri e all'assolo, d'applausi a scena aperta di Giacomo Ceredi alla prima gioia in a Biancazzurro. Gennaio 1994, l'undici di Giorgio Rumignani si impone 2-1. Subito carnevale, gioiello di Piraccini e gol vittoria di Salvatore Alfieri in versione contorsionista. Rete tutt'altro che banale. Sempre in B, 23 dicembre 1994, nel lago dell'Adriatico. Il Pescara di Francesco Oddo la risolve nel finale. Reti di Angelo Montrone e di Michele Gelsi. 21 gennaio 2000. Spettacolo e successo debordante. Finisce 4-0 grazie alla doppietta del talentuoso Vincenzo Palumbo e ai gol di Nicola Zanini e Sasasullo. Nella stagione 2005-2006, altra vittoria. Era il Pescara dell'esordiente Maurizio Sarri, che centra la salvezza con tre giornate di anticipo. Sudatissima perché i romagnoli vanno avanti 2-0 con Salvetti in acrobazia e Bracaletti. E anche l'ultimo gol realizzato dal Cesena all'Adriatico. Reazione tuttavia rabbiosa. In sequenza le marcature di Gonnella, Stacco Imperioso, Zoppetti e Fabrizio Cammarata. L'ultimo incrocio due anni fa in C, 15 marzo 2022. Il Pescara di Auteri vince di misura col guizzo rapinoso dell'ex Mirko Drudi. Ma la meraviglia tecnico-balistica porta la firma sei anni prima, 15 aprile 2016, di Gianluca Lapadula. Assist di Pasquato, acrobazia di raro pregio da copertina televisiva.